Fit Junior Program, bellissime performance per i piccoli atleti del Tennis Club Sciacca impegnati nel weekend al Centro Tennistico di Agrigento e allo Sporting Bellavista di Porto Empedocle. Più di 100 mini atleti provenienti da tutta la provincia hanno partecipato alle varie competizioni diversi atleti del Tennis Club Sciacca raggiungendo gli ottimi risultati. Nel settore femminile ottima la prova di Gela Sclafani nella categoria Super Orange femminile, si è piazzata al secondo posto. Nel settore maschile esploat nella categoria Super Orange con vincitore assoluto Calogero Liotta che ha battuto in finale il compagno di allenamento Gabriele Pagano. Nella categoria Super Green primo classificato Vincenzo Catanzaro alla sua prima esperienza. Nella categoria Orange maschile, secondo posto per Riccardo Migliore, anche lui alla sua prima esperienza. Grande soddisfazione da parte dello staff tecnico diretto dal tecnico Domenico Caracappa e dai suoi collaboratori Enzo Colletti e Franco Sclafani per i risultati raggiunti dai mini atleti, visto l'ottenimento di benne due vittorie e quattro finali assolute. Buone prestazioni pure per Giorgio Mangiaracina e Gaetano Catanzaro. Sempre il tennis club isciacca vola in testa alla classifica anche nel campionato regionale over 45. I seccenzi hanno battuto per 2-1 il Gela, seconda vittoria consecutiva per il team che capeggia il girone 1 e ottiene con due giornate di anticipo il passaggio al tabellone finale. Vittorie nei singolari di Franco Sclafani ed Enzo Colletti, mentre il doppio composto da Totò Caracappa e Andrea Di Giovanna si arrende agli avversari al tie-break finale. Presenti pure Pippo Venezia, che però non è sceso in campo, e il vicepresidente Pier Giorgio Politi. Tennis club sciacca che al momento continua a disputare le partite casalinghe presso la struttura di Menfi del locale tennis club guidato da Santo Cusumano.